Il sindaco fallica, i pedaresi hanno risposto alla grande, senza mezzi termini. Fallica il sindaco per i prossimi intanto 5 anni. La prima cosa che il sindaco fallica farà a Pedara dopo l'era Barbagallo. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno voluto accordare il loro consenso a questo progetto. Un progetto fatto di amici, un progetto fatto di persone, un progetto che guarda Pedara come miglioramento della vita. Prime azioni, sicuramente un recupero territoriale importante, ci sarà un assoluto censimento di tutto ciò che è l'assetto stradario di Pedara con tutte le sue deficienze strutturali e la voglia di riportare a un'ordinarietà quello che ad oggi è diventato straordinario. Qualcosa che possa fare contenti le pance dei cittadini, dei pedaresi? La scommessa più grossa è il turismo. Su questo già abbiamo attivato dei protocolli di intesa con i tour operator. Stiamo cercando di portare avanti l'economia di Pedara su questo campo. Già ha incominciato vento negli ultimi mesi con l'inizio, con l'inaugurazione di Piazza del Popolo per raccogliere gli autobus che verranno e siamo certi che verranno a frotte perché Pedara è diventato un paese importante, un'attrazione turistica di assoluto livello regionale. Siamo pronti, ci stiamo organizzando per accogliere questo turismo che ci attendiamo numeroso e copioso. A questo punto buon lavoro e all'insediamento. Grazie, grazie.